benvenuti a questo nuovo episodio con un leggero upgrade rubato da mio fratello chiedendoglielo abbiamo un tecnico con i preservativi rotti in mano che sta fissando il serbatoio uau non basta giù la benza senza benza non si va senza ben la vacca formice cacciavite dalla nostra officina no è quello che penso al blocco mamma mia che benessere siamo appena tornati da brixia moto con la da dove va bene fatto abbiamo preso la bobina la sbobbina voglio la balena voglio la balena voleva uno sculettare saltando dai messi dito abbiamo fascette fascette e cavi d'acciaio c'è tu un cavo d'acciaio a noi è vero è un cavo di non lo so non mi ricordo allora un cavo allora rimetterò la cosa davanti alla telecamera tantissimo non c'è la mia faccia lol corio ha perso una vita perché è stupido abbiamo preso la almeno si vede si abbiamo preso la bobina che bello fare le prese così corio è bellissimo abbiamo preso la bobina per la mitica tzr m6 che tra non molto dovremo anche far ripitturare però sarà una bestemmia perché dovendo ripitturare il serbatoio ma visto che ci serve perché sennò si va bene ma nel senso dovremo comunque montare in un qualche modo che bello elastico hai perso una vita corio mi servono mano tutte e due tanto sembri destro ci muoviamo corio ha perso una vita gli serve un fungo funghetti lucinogeni fischi occhi di pesce stiamo scarenando le carene stai scarenando le carene io ho scarenato il fanale che è stuprato ora è del tutto stuprato era già rotto è colpa tua affanculo ora del tuo è ufficialmente stuprato potevate vedere la bellissima librea che ci avevano fatto sopra si attacca con le faccette corio e faccette risolvono tutto ma di la verità ne incastrata corio i dubbi meccanici anche se ultra iper laureato e masterizzato masterizzato non sono cd chi lo dice e come vender che è presente la puntata in cui ritorno tipo vanno nella ponte della giovinetta e continuano a ringiovanire si lo so tipo continuare ingiovanire c'è vender che dopo essere diventato un trafilato diventa un disco con su scritto programma per bandy bender ecco una roba del genere tu diventerai un disco rivelazione aspetta rivelazione non ti darò una mano perché sta facendo il video e sono occupato sono già 4 minuti di video abbiamo ancora tre ore di video da fare salò al serbatoio cavo al serbatoio quindi questo via quindi vite vite non c'è uno strappare il cavo del coso non non lo stai guardando cosa non è fissato leva tsi in mezzo alle balle lo e lo faccio anche bene vediamo se riesco perché non si attacca al ligno che ho provato di cazzo è la pipetta non è attaccata sopra perfetto si è attaccato sperando che non cada curio it's a perfect come gli italiani smontano le cose mi servono le sbrugole 5 ma non era attaccata sta roba qua l'ho tirata via con nulla vabbè te sei nulla la tua faccia è nulla anche la tua faccia questa qui è il 6 mi sa quella è il 6 come cazzo l'avete tirata lo sapete solo voi quella lì non è tirata le altre due sono tirate si era leggermente tirata qua servirebbe un... come si chiama? a parte che questa è la vite sbagliata ma servirebbe una rondella bravo ce l'hai fatto dire rondella sono le viti sbagliate su stacca le altre quelle lì non hanno vite sono le sbagliate vitate e uno ero come siano due arruginite e una tipo nuova splendente splendente con i pesci identici questa battuta gira da anni e anni che non conosciamo e ce l'ho spiegata dopo tre anni che la faceva ci sono i pesci che si chiamano identici si sto spiegando i pesci identici spade della sedalina non parte più è molto a caldo corio poi dovrei ritrovarmi le viti del... questo è davvero appena ritrovato? ok no va bene il sbaglio è tolto porco dio porco porco patto aspetta senza che mi ammazzi senza che mi ammazzi bella che ora tutto questo è incluso nel video voglio un po' di un impatto velocizza ahhh ecco com'è ci serve una torcia il tuo telefono è diventato improvvisamente inutile anzi dammi il tuo telefono che è ritornato ad essere utile in due secondi palpiamo la gente stupido telefono che ruota adesso faccio vedere whatsapp al video flash ok non so quanto si veda bene né quanto sia la risoluzione si vedono solo le mani di corio perché ormai sono un must corio respira pesantemente non hai mai sentito il tele durante la notte figa sono flashato uso le chiavi a brugola cambiamo il nostro bel blocco con il dr 70 una canna dell'acqua rubata mia nonna un carburatore del 21 che ci è arrivato settimana scorsa un altro corio la batteria solita che è staccata da qualsiasi cosa olio corio che non sa usare un cacciavite col cric ma la chiave che è troppo piccola perché è troppo piccola la cosa qua che è la 7 tu non sai usare il cacciavite col cric se tu cacciavite col cric si cosa ma si può attaccare il 21 con il cosa dell'aria perché quella sotto è mannaggia perché quella sotto è mannaggia non lo so vabbè dai intanto faccio andare avanti il video poi il corio velocizzerà come si vede perfetto ah puttana eva povera eva ma sei tu puttana ti chiamano non ci credo sai che ridere se non mi ha registrato l'audio fermo è una bella cosa sulla schiena fermo cosa cazzo è? quello è un insetto ed è morto mi mancava un insetto il polizontale che stanno già tornato ma già hanno fatto sclerare? si oggi mi hanno già furto mentre tornava a casa e ieri mi hanno già virgola ah ah you got it ma quale potrebbe essere il mistico motivo per cui non va cosa oltre alla bobbina per cui non va l'accensione elettrica non lo so che donna oh 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 via allora pensi di ricordarti di attaccare questo stupido cavo si quel cavo qua aspetta facciamo una bella cosa c'è lo scotch si aspetta no pensi di ricordarti di attaccare questo coso aspetta oh il giorno non te l'ho sputtato addosso così ce lo ricordiamo mi sembra abbastante evidente come cosa anche perchè i vedi cazzo del palavomino problema risolto Kelly i pezzi di scotch attaccati ai denti che be' il suono cosa dici no scusa affanculo è filettato lol è filetto non è il suo forse è suonato delle vite dove? dentro la storia no c'è niente niente non è possibile non è filettato qua dentro perchè cazzo sono più piccole ste viti cazzo cioè sono più piccoli fuori attacco la musica stanno togliendo lettermi non so di cosa siano queste viti ma le userò lo stesso non sono quelle del serbatoio no non sono quelle del serbatoio quel serbatoio è solo lì di fuori che non sono quelle del serbatoio una volta che si attacca un po' il serbatoio perché fa casino no cosa d'avvio ancora questa e non mi frega proprio un cazzo ma se non mi piace lo stesso nulla questo lo devi tagliare no e soprattutto lo dobbiamo togliere dalla copro perché se lo vede mio fratello si in cula se lo vede mio fratello si in cula cosa non so non ha senso è già un quarto d'ora che sta facendo il video ah bello l'audio mono ma è il mio telefono si perché perché è il mio voglio tirarlo fuori si ah il mio operatorio che bello qua sotto ci metto qualcosa ecco la mia cadena che cazzo voglio fare fanghi posteriore eh robo forza damn che cazzo sta ricendo perfetto ho realizzato l'altro giorno ok? già nera a Londra durante l'attentato lol ok questo deve andare mamma che posizione del cazzo per una candela se ci che vuoi fare? fermo 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 assomini quello con la motil from sinistra guarda la mattetta una p***a che vuole dire candela che bello farò sempre il sabatoio che bello farò sempre il sabatoio se mi riesco a cercare il sabatoio se mi riesco a cercare il sabatoio però è stupida comunque perchè è fatta su male eccoci facciamo una bella cosa non ancora si rinuncia no vieni su che me la spingi non vado giù ho preso paura adesso coglione hai paura Sandro ma sei scemo cioè non vuoi più scendere dalla rampa nel senso fai la pulpa e la lascio andare perchè non lo abbiamo messo lo starter no quanto? dai 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 che brucia dunque abbiamo cambiato abbiamo cambiato risoluzione perchè il mio telefono è pieno di alla memoria piena di solo e quindi adesso facciamo fare un piccolo girettino alla bestia un'unica chiave se ha anche ricaricata la batteria della moto della moto mi raccomando non tirarlo da qua non tirarlo da qua allora allora seconda così vai se ce la faccio da solo no vai vediamo se la parte c'è c'è c'era vai buccia la parte la parte la parte la parte la parte è la parte in la parte è la parte il piano che è la parte è la parte buona la sessione è fatta non dobbiamo fare il video mentre scende è fatta lì mi sono cagato perché pensavo per tutti ma avete pulito mi avete pulito mi salutiamo spettacolare ragazzi spettacolare bellissimo sound è molto più cattivo dell'altro mi giro con una cosa morta non è più cattivo di quando toglievo il terminale parliamone parliamone si mi sa che è cagato prova a toccare figa scalda mica da ridere puttana non scalda mica scalda mica da ridere che bella figa scalda un fottiglio quella roba qua ma siamo sicuri che circoli il liquido non so se si vede ma c'è una senza la nebbia figa ok io torno a fare la rampa ottimo ciao codo ciao sandro e ciao dalla piccola tztr grazie 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 Grazie.